bella icon bella giuseppe giuseppe dove ci buttiamo palmetto grazie mille dark un attimo ma confusa tra l'anno no arrivo pure basso per guardarla date più o meno dove ho pingato quelle case lì a me vuoi dare non so chi è più basso prima prima di poterlo fare di video sapere se soddisfi requisiti per farlo quindi per saperlo devi scrivere punto schermativo provini e vedremo bella giovanni c'è un team idrata un pompa c'è un pompa e una pistola si troppate da me lo fai no perché ho solo un pompa ma in due ce lo facciamo e io rubiamo la mitraglietta è andato via non è qua sotto qua sotto qua sotto cioè è dietro la scala ok sto scappando lo lasero perraia non ho materiale non ho materiale a dove ti ha sparato è dall'altro palazzo a 233 comunque l'ho buttato a terra si 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 lo so ho tirato tre colpi da 30 quello tutto in blu ok le visti in lontananza eh jumpano verso di me è questo arrivo 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 è sopra di te è ferito è un botto ferito c'è avrà tipo 50 di vita dire tanto è da me madonna quanto l'ho distrutto ucciso? si il mio si ok bravo è un pompa del nonno sotto non ho materiale ma guarda te che odio ok uno è morto adesso in teoria adesso sono il sole no? no no perché la gatta la gatta è andata giù subito c'è la nera ancora terra esatto quindi c'è ancora uno a meno che non sia uno come loi che c'è il compagno across the map ender scrivi punto esclamativo provini adesso controllo un po' in giro è appunto dark devi guardarti il video ti viene spiegato tutto lì devi non guardarlo a metà no perché se no guarda mister no 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 che spavento ho uno scudo per voi eh dattelo pure tu jocky io ho uno scar da droppare eh eh quasi quasi qualcuno trova un R per me e sopra il tetto e c'è un R blu anche qua sopra il tetto del della casa più alta ci sono sia scar sia R blu bella salvatore per i provini punto esclamativo provini ti porto a un video e lì viene spiegato tutto eh mister chada conta che l'antenna costa tipo 120 euro a me hanno donato tipo 37 euro per ora quindi si manca ancora abbastanza almeno un'ottantina di euro why? ma voi c'è munizioni? no io sono a posto di munizioni ci spariamo un Rift? qualcuno riesce a portarlo lo shieldino io porto le bande io c'ho tre dinamiti ah io lo sai thanks dammi le ok le bande arrivo aspetta aspettate un attimo vai che c'hanno altre bande eh il prendete vuoi le bande quindi eh eh sì il game non lo vinco manco per sbagli e invece la vinceremo vai prendiamo la Rift andiamo verso il corso sì bella black grazie mister chada qua c'è una mitrezza qualcuno non ha bisogno ah aspetta ma stanno fightando non so che si stanno curando ok si hanno appena fightato ma guarda che si è da solo eh si è da solo bro eh aspetta sono bianchi comunque sì aspetta che tiro delle dinamiti sono lì dentro dai qualcuno lo killerò dai è lì davanti a te Gilbe Gilbe davanti a te ok sono fuori tutti morti tutti morti volevo killarne uno con le dinamiti lol non so quanti non è stati là dentro perché ma raga quanto loot c'è aiuto eh allora tenete tenete scildini scildoni allora vi lascio due scildoni e tre scildini poi prendetevi il resto il barret avete preso voi io mi tengo i scildoni anzi scildoni uno io delle cure le porterai eh se non mi dispiace ah dai li prendo io ah mica c'è anche loot sopra no qua qua sopra che schede vede hai ho una 1060 qua c'è uno cazzo mi lasciate le ah no porto lo scudone va ah no a parte with dattelo porto gli scildini c'è uno scudone per te speravo di killarne almeno uno con la troppa si aled si dopo dopo questa si ender giocare si si va bene purtroppo non possiamo giocare in live per fare il provino a meno che tu non soddisfi requisiti non lo so e niente nico non puoi scrivere in maiuscolo sennò ti blocca il messaggio materiale come ti tenete? io ho 740 legno 190 mattoni e 170 ferro aspetta io cerco di fullarmi così prendi un po' del mio legno davide per i provini punto esclamativo provini ti porterò un video in cui ti spiego tutto sei tranquillo nico oh qua c'è una slurpe raga dove? io non la posso portare io o lascio gli scudini o non posso portare lasciate le bende piuttosto chi ce le ha io posso portare qualcosa io eh io posso portare qualcosa allora valla a prendere tu eh si stava bene va subio 2 black vabbè me la tengo dai per 15 di vita sti cavoli magari proviamo mele magari ti viene fame trovi mele io sto facendo del legno che sono full quindi passate dietro di me oh aereo sopra di noi aspetta non fatevi vedere mica 20 persone in sta safe me le spiegano poi eh no ma in questi giorni stanno facendo degli skirmish assurdi emigallo ci sono buttati dentro le cose qua aspetta allora emigallo posso fare il provino punto esclamativo provini scrivilo e ti verrà spiegato tutto in un video allora con un bacio di 500 550 euro un buon pc anche per streaming ci esce allora io ti dico non sono esperto di pc quindi non vorrei dirti cagati io ti dico che per il mio ne ho spesi più o meno 800 e streamo tranquillamente non so con 500 probabilmente se magari prendi le robe in saldo o in qualche modo ci riesci allora raga qua con 300 di legno vi prendete un altro slurp o 300 di ferro quindi facciamoci un po' di legno e prendiamolo che poi ci servirà io sto spaccando vi lascio il legno io 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 faccio un scudo qua scudo la raga oh madonna oh wow 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 ma che è però da dove? stanno là sotto sotto? dove? non li vedo io dentro l'albero? alla casa alla casa a destra ho visto andare uno io non era era un gatto salvatore allora per i requisiti cioè se li soddisfi poi mi invia la richiesta io controllerò ok li soddisfi e poi ti inviterò vai lanci è sotto ah ne sono qua sotto sono qua sotto vieni che ti spacco ti faccio lanciare la gra vai vai spacca qua ma cos? è preso? si mi stavo per ammazzare con la mia testa raga uscite di qua che se non è una bella tana per topi questa si si dopo la allora stasera no perché chiuderò la live poi dovrò andare via però ender giocheremo via mi la richiesta c'erano scudini da prendere che io ne ho 4 posso prenderne ancora 2 non so se prendere il barretto o no prendo lo scarva prendiamoci l'altezza raga venite qua avete preso il secondo slurp? no dov'è? no dalla vending machine peccato sarebbe stato utile ma dopo troppi materiali ue raga sono là sopra sono là sopra le fatti cadere le fatti cadere vedi quelli si sono fatti tutti erano scarsissimi raga spaccate l'aereo se potete però raga saranno andando a luttare là ciao alessio raga saranno andando a luttarli saranno andando a luttarli il tetto 42 mi manca un hit mi manca un hit mi manca un hit mi manca un hit a quella lì a quella tizia lì un hit mi manca bravi 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 qua stanno sparando all'aereo venite stanno fightando stanno fightando venite avete colpi lancia ratti ho visto una deagle avete colpi lancia ratti raga sono qua davanti a me arrivo 42 no raga la zona continuiamo la zona si ma se riusciamo a fastidirli mentre devono entrare in se si si stanno fightando stanno fightando io non stavo qua davanti qua davanti a me fin lato fin lato quello che dà c'è fin lato bravo lì stanno ancora fightando insomma ti c'è chi lì stanno arrestando ok una terra sono gli ultimi ah è bianchissimo ok l'ultimo mica mi ha sciolto questo ok riftato andiamo in safe io c'ho due jump no aspetta 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 io la uso weed c'hai delle cure aspetta weed no la non push non pushamo la casa perché siamo su pc quindi potrebbe essere benissimo un pro quindi calmiamoci ci sono anche delle band ecco sotto curiamoci tutti al top che questo qua potrebbe essere benissimo un pro l'altra volta abbiamo rischietto tranquillamente di perdere un 3 contro 1 perché era fortissimo quello ah è là mi sa 165 se non ho visto male 165 dove? mi sapevo no no l'ho flashato flashato sorratamela un'acqua dentro la casa oppure ho camperato in qualche albero vedete che ho visto i scudini sicuramente camperato ci farà fuori di nuovo vuoi vedere che nel sotterraneo ah no in zona il sotterraneo cioè allora tutta questa parte non c'è eccolo arrivo 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 bella scu scu mister ched paga paga voglio gli 80 cash rega chat scrivetelo un po' scrivetelo un po' a mister ched 80 euro cash 80 euro cash che c'è che c'è che c'è